Buonasera, trattiamo il tema, Gesù salva perché siamo buoni o perché abbiamo fede in Lui? Leggiamo due versetti, Matteo 9,2 Ed ecco gli portarono un paralitico disteso sopra un letto. Gesù vedo tutta la loro fede e disse al paralitico Figliuola, coraggio, i tuoi peccati ti sono perdonati. Già qui vediamo che Gesù ha perdonato i peccati del paralitico per la fede di tutti questi israeliti che hanno creduto in Gesù Cristo e gli hanno portato il paralitico ed è stato guarito. Ma qui parla di peccati, quindi Gesù perdona i peccati per fede. Andiamo avanti. Matteo 9,2 Gesù si voltò alla vide e disse Coraggio figliuola, la tua fede ti ha guarita. Da quell'ora la donna fu guarita. Quindi se vogliamo una guarigione, anche qui ci vuole la fede. Se vogliamo la salvezza, ci vuole la fede. Se vogliamo la guarigione, ci vuole la fede. Qui dice Matteo 9,29 Allora toccò loro gli occhi dicendo Vi sia fatto secondo la vostra fede. Anche qui, in base a che fede abbiamo. Se abbiamo fede nei miracoli, ci saranno fatti miracoli. Se abbiamo fede di essere salvati in Gesù Cristo, siamo salvati. Quindi, è la fede che Dio guarda. Perché tutti siamo peccatori. Non siamo brai persone. Inutile stare lì a dire. Nessuno merita il paradiso. Per cui, è chiaro, ci sono qua mille versetti che riguardano la fede. Andate a vedere. Cioè, è pieno. Ho scritto fede. Cioè, guardate. Non finisce più. La salvezza è per fede. È inutile. Non si scappa. Dobbiamo avere fede in Dio, in Gesù Cristo. Guardate. Non si conta. Alla prossima.